La sveglia al dibattito ferragostano sulla cittadinanza la pone con un'intervista a Repubblica il vice premier Antonio Tajani. L'Italia è cambiata, non è questione di inciuci con il PD. Lo Ius Scole scuote le coscienze e i cittadini in una provincia come Padova, tra le prime dieci in Italia per numero di studenti stranieri nelle classi, fonte notiziario agosto 2024 del MIUR. Favorevole alla proposta anche il comune di Padova per voce di Cristina Piva. Credo che i ragazzini che arrivano qua da piccolini, che iniziano un percorso scolastico, la Ius Scole prevede almeno cinque anni, bambini che arrivano alle scuole primarie, che poi passano alle scuole secondarie e che fanno un percorso, diciamo, positivo, nel senso che poi hanno anche l'attestato, il diploma di frequenza e di promozione, penso che abbiano un diritto ad essere, a sentirsi quantomeno italiani. Lo Ius Scole sarà probabilmente oggetto in autunno di una discussione in Consiglio Comunale. Del resto, sempre fonte notiziario del MIUR, in Veneto il 71,2% degli studenti di nazionalità straniera è nato in Italia. Nel frattempo Cristina Piva, a lungo insegnante nelle scuole padovane, lo descrive come uno stato di fatto che se non negli adulti, di sicuro i cittadini italiani più piccoli vivono già adesso. Parlano italiano, frequentano le scuole italiane, fanno gli stessi percorsi culturali dei loro compagni, mi pare giusto, corretto che abbiano questo riconoscimento.